Allora Diego, gesto più brutto e gesto più bello della scorsa giornata di campionato? Allora, quanto al più bello direi il gol di Robinho in Milan-Cagliari, anche per un giusto tributo e omaggio al Milan-Campione d'Italia per la diciottesima volta. E questo è stato uno splendido gol di Robinho, una serpentina al limite dell'aria contro il Cagliari e poi un bellissimo destro a giro nell'angolino rasoterra che ha battuto il portiere Cagliaritano. Quanto al gesto più brutto, io direi un misto tra gesto più brutto e più bello, in quanto scelgo la situazione di Palombo della Sampdoria, quindi come situazione direi la peggiore, perché la Sampdoria aveva 30 punti quando esonerato Di Carlo e con Cavasini è riuscita soltanto a conquistare 6 punti in più di 10 giornate, davvero un bottino magro, triste, di una società blasonata che 20 anni fa aveva vinto il suo primo scudetto, aveva vinto anche una Coppa delle Coppe, disputò una finale di Champions League contro il Barcellona nel 1992, quindi dispiace che una società importante e blasonata del calcio italiano vada in Serie B. Però allo stesso tempo a me è piaciuto il gesto di Palombo che in lacrime come capitano della Sampdoria si è fatto carico di quasi tutte le responsabilità della squadra, è andato sotto entrambe le curve, la gratinata nord e sud del Marassi e in lacrime purtroppo è stato appunto anche poi applaudito, giustamente, dalla tifosia bruciata, tutti i tifosi erano commossi, ovviamente piangevano sia per la disperazione della Serie B, ma sono stati credo anche poi stupiti, meravviati da questo gesto molto bello, devo dire, di Angelo Palombo, il capitano della Sampdoria e quindi sicuramente è stata una cosa bella come gesto sportivo, ha dimostrato un grande fair play il pubblico della Sampdoria, è brutta la situazione della Sampdoria perché aveva 30 punti, non meno di 10-12 giornate fa, ne bastavano 10 per salvarsi ne ha conquistati solo 6, quindi devo dire onore e merito poi a Lecce di Gigi De Canio che si è salvato unitatamente vincendo il derby di Puglia a Bari per 2-0. Parliamo un po' di Champions, hai visto? Il mio Napoli ce l'ha fatta dopo ben 21 anni, io mi sono emozionata tantissimo ed in proposito vorrei farti ascoltare un pezzo che a me piace tanto, usurdato e innamorato, sentiamo e vediamo. Parliamo un po' di Champions E dopo aver sentito queste bellissime note, proiettiamoci sul futuro, la prossima sarà l'ultima giornata di campionato, parliamo un po' Dico, cosa ti aspetti? Ma ormai diciamo che c'è poco ad aspettarsi in quanto i verdetti più importanti sono stati già segnati, Milan giustamente come abbiamo detto prima campione d'Italia, ha vinto con merito questo Scudetto, è stata in testa per circa 5-6 mesi, era già campione d'inverno e dobbiamo dire che è stata anche brava la società, ha fatto un'ottima campagna acquisti, soprattutto i due acquisti nell'ultimo giorno di mercato, Ibrahimovic e Robinho che sono stati determinanti insieme a Pato per la vittoria dello Scudetto, anche perché poi sia Ibrahimovic, sia Pato sia Robinho sono i capocannoni del Milan, tutti e tre con 14 marcature ognuno. Poi azzeccato è stato anche l'acquisto di Van Bommel al centrocampo, nel periodo in cui Pirlo e Ambrosini che sono stati due pilassi del Milan a inizio stagione sono venuti meno e quindi Van Bommel è riuscito con la sua sagaccia tattica, con il suo lavoro di copertura e un lavoro anche muscoloso, un lavoro di grande tutelità tattica a ricoprire bene sia il ruolo un po' di Ambrosini che quello di Pirlo. straordinario è stato il campionato di Seidorf soprattutto nel giorno di ritorno, splendido quel gol a Firenze che ha permesso al Milan di vincere, una bellissima punizione poi contro la Sampdoria e grande merito va dato come detto per la Sieta Rossonera anche per l'acquisto di Boateng che si è rivelato determinante in numerose giornate di campionato, ricordiamo che a metà il suo cartellino tra Milan e Genova ma credo che il Milan sia fortemente indenziato a riscattare questo giocatore, non so se hai visto poi nei festeggenti il balletto alla Michael Jackson anche bravo, balla anche molto molto bene, infatti si sprecavano le battute se il Milan volesse compare Boateng come ballerino o come giocatore quindi è stato davvero un acquisto, lo preferiamo come calciatore, però anche come ballerino non era male, non credo che sia molto facile poi riuscire a... è in Champions ed è terzo matematicamente, l'Inter di Leonardo è seconda matematicamente e complimenti anche a Leonardo perché ha preso un Inter in gravi difficoltà di classifica e l'ha portata al secondo posto, nonostante poi le critiche che ha ricevuto per l'eliminazione giusta in Champions League anche se l'Udinese ha 65 punti e il Inter è in grani dello Shark 04, però ha fatto un grandissimo lavoro anche a Leonardo e l'Inter meditatamente è terminata seconda in questa stagione. Come detto i verdetti per la regressione sono stati già tutti assegnati perché Bari, Brescia e Sampdoria sono in B, complimenti a Lecce e Cesena che si sono salvate e per quel che riguarda le uniche partite che hanno un senso in quest'ultima giornata sono Lecce, Lazio, Udinese e Emiliano perché l'Udinese e Lazio si giocano in ultimo posto utile per la Champions League, anche se l'Udinese ha 65 punti è in netto vantaggio rispetto a Lazio che ha due punti in meno, giocherà in casa l'ultima partita con il Mian che non dovrebbe avere più motivazioni in quanto campione in Italia, per cui l'Udinese a questi due punti di vantaggio dovrebbe essere favorita, così come la Roma che gioca in casa con la Sampdoria che gioca retrocessa e basta un punto per essere matematicamente in Europa League, per cui diciamo che l'ultima giornata di campionato non ha più quella suspense tipo 5 maggio che per i nostri colori bianconeri furono straordinari ma sarà una giornata di campionato, credo all'insegna dell'ordinaria amministrazione perché come detto lo scudetto e le retrocessioni che sono poi i posti più importanti di una stagione sono stati già assegnati, i traguardi più importanti che le squadre tendono a raggiungere in una stagione sono stati già assegnati. A proposito di campionato mi veniva un pensiero, ricordi quando abbiamo iniziato a registrare la prima puntata di Serie A ieri e oggi, cosa c'eravamo riproposti? Io volevo la pizza Cavani e tu cosa mi volevi offrire? Io gli volevo offrire un Gianduiotto perché noi iniziamo la settimana in cui la Juve batte l'Inter 1-0 infatti ero molto contento e quindi anche il Napoli se non era vinto e quindi ci prendevamo in giro con la pizza Cavani e con il Gianduiotto piemontese e poi sono due specialità di Napoli e Torino. A questo punto mi chiedevo ma non è che nonostante poi alla fine la classifica la conosciamo tutti oramai sappiamo che vince il Milan, ha vinto il Milan e vorrei assaggiare lo stesso questo Gianduiotto e magari anche la pizza Cavani. Secondo me si può fare, il problema è che siamo in campagna quindi per la pizza Cavani è più facile per il Gianduiotto ti prometto che appena andrò a Torino nel nuovo stadio a vedere la Juve te lo porterò sicuramente. Siete i miei testimoni, comunque anche questa puntata di Serie A ieri ed oggi, l'undicesima puntata volge al termine vogliamo ringraziare anche oggi Gaetano Pellegrino per la sigla, per le riprese, la regia ed il montaggio e quindi buon campionato a tutti e buon proseguimento con i programmi di Sole TV. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!